Ciao a tutti questo è il terzo episodio della serie che ho iniziato dove vado ad analizzare i portafogli dei più grandi investitori del mondo Nei primi due episodi abbiamo visto il portafoglio di Charlie Munger e il portafoglio di Ray Dalio Sotto lo scorso video mi avete chiesto di andare ad analizzare in questo video qua il portafoglio di Bill Gates Per il prossimo episodio ditemi voi chi volete tra magari Warren Buffett, Katie Hood, Lee Lou e Jim Simmons Ditemi il vostro preferito questo nei commenti Per chi non sapesse chi sia Bill Gates mi spiace per voi perché è uno dei personaggi più influenti probabilmente degli ultimi 20-30 anni Considerate che è appunto il fondatore di Microsoft, la seconda azienda più capitalizzata al mondo Attualmente ha un patrimonio di circa 120 miliardi di dollari che non sono poi così pochi E questa ragazzi miei è stata la sua performance negli ultimi 10 anni È dovuto principalmente al fatto che la maggior parte del suo patrimonio è investito nella Berkshire Hathaway Che oggi non andiamo ad analizzare perché magari la analizzerò quando parlerò di Warren Buffett Perché appunto è l'edge fund di Warren Buffett e Charlie Munger Ma la suddivisione degli investimenti di Bill Gates la andiamo a vedere adesso Considerate che negli ultimi 3 anni ha avuto una performance del 30% Che arrivati a un patrimonio così elevato è tantissimo Infatti non può assumersi i rischi che Taylor Letty mi possa assumere io con patrimoni ben più bassi Ovviamente andiamo a vedere solo le parti più importanti del portafoglio cioè quelle che pesano di più Prima di farlo però andiamo a vedere gli ultimi trade che ha fatto Le principali cose che ha fatto sono incrementare la posizione in Microsoft nel Q3 2022 Stessa cosa in Canadian National Railway, Waste Management e DR&Co Invece ha venduto alcune posizioni che aveva nel conglomerato di Warren Buffett Che è quello che vi dicevo prima ovvero la Berkshire Hathaway Ora andiamo a vedere percentualmente quali sono le sue più grandi posizioni Considerate che Bill Gates è molto meno diversificato rispetto a Ray Dalio Che tra l'altro se avete piacere andatevi a recuperare l'ultimo video perché è molto interessante E come potete vedere le più grandi posizioni sono Microsoft 26% del portafoglio quindi molto poco diversificato Berkshire al 25% che sarebbe l'edge fund di Warren Buffett E poi Canadian National Railway, Waste Management e Caterpillar Che sono le aziende che andiamo a vedere oggi ovvero Microsoft e queste tre qua Per chi non lo sapesse semplicemente Canadian National Railway è una compagnia ferroviaria Che ha circa 20.000 km di reti ferroviarie e queste reti si estendono sia in Canada sia negli Stati Uniti Waste Management è semplicemente un'azienda che si occupa di tutta la parte di raccolta e smaltimento rifiuti negli Stati Uniti E Caterpillar, penso che la conoscete tutti, è quell'azienda americana che si occupa di produrre e vendere macchine aria e attrezzature per il settore edile Ora andiamo ad analizzarle tramite il mio algoritmo molto più nel dettaglio Per vedere se c'è qualche azienda che possiamo andare ad analizzare meglio e magari pensare anche di investirci Come potete vedere i voti sono discostanti infatti Waste Management ha un voto di 4,39 da 1 a 10 Che è il voto che viene fuori tramite una serie di input che vengono dati come indicatore di bilancio, stime di crescita e altre cose Ed è anche penso il voto più basso delle 4 Infatti Microsoft ha una votazione di 7,90 ma ci ho fatto un video riguardo qualche giorno fa quindi se avete piacere potete vederlo lì Infatti l'analizzo anche nel video in cui vi parlo delle tre aziende per investire nell'intelligenza artificiale Caterpillar ha un voto di 4,57 molto bassa anche qua E invece cosa che non mi aspettavo Canadian National Railway è molto interessante infatti ha una votazione di 6,10 che vi sembra basso ma vi assicuro che non lo è E quindi principalmente mi concentrerei su Canadian e Microsoft Ora andiamo a vedere inizialmente il discounted cash flow per tutte e quattro le aziende Poi magari ci concentriamo brevemente sulle stime di crescita che penso possono essere reali per tutte e quattro Allora la situazione per Caterpillar e Waste Management è abbastanza critica per quanto mi riguarda Infatti Caterpillar e Waste Management entrambe le avevo in portafoglio ma successivamente ho deciso di venderle Perché avevano ottenuto un prezzo che io ritenevo elevato Poi sono continuato da crescere ma attualmente penso non ci investirei mai Infatti entrambe hanno una sopravotazione per quanto riguarda il discounted cash flow è in circa di un 60-70% Infatti io per Caterpillar stimo un fair value attualmente di 94 dollari Per Waste Management ho un fair value intorno ai 71 Così sapete che Waste Management sta a 153 e Caterpillar sta a 262 Ed è per questo che secondo me non conviene nemmeno perderci troppo tempo sopra Anche perché se non andiamo a vedere lo stato patrimoniale sono entrambi che non mi piacciono Infatti sono aziende molto indebitate Infatti ha un rating di 3,89 su 10 quindi molto basso E non hanno margini elevatissimi Infatti Caterpillar si salva ancora con un 5,78 di rating ma è comunque in generale basso Quindi intensamente non investe in aziende del genere E poi la cosa che mi spaventa ancora è il fatto che ha raggiunto multipli abbastanza elevati Perché attualmente Caterpillar ha un PI di 20 Cioè che è molto alto per la sua media storica A questo punto qua secondo me non conviene investirci sopra Un discorso pressoché molto simile è quello per Waste Management Che ha un rating di 3,67 su 10 per quanto riguarda lo stato patrimoniale Perché anche se è molto indebitata Considerate infatti che praticamente in cassa ha 140 milioni di dollari E ha debiti per 14 miliardi Capite che in aziende del genere a mio avviso non conviene mai investire Soprattutto se considerate che ha un price earnings di 28 Cioè è un price earnings forward di 24 Quindi a questi punti qua per me non ha senso nemmeno perderci troppo tempo Per quanto riguarda Canadian National Railway La situazione è un pelo meglio Ma lo stato patrimoniale non mi convince nemmeno qua Infatti anche questa azienda è molto indebitata Infatti ha debiti per 15 miliardi E in cash ha veramente poco 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 Troppo poco Ha 500 milioni in cash Ha però degli ottimi margini Infatti addirittura un voto di 6,89 su 10 per quanto riguarda il conto economico I multipli non mi convincono troppo Infatti ha un price to free cash flow di 27 Che mi sembra troppo troppo elevato E c'è anche da considerare il fatto che appunto ha poco cash a bilancio Che non mi fa impazzire Il discounted cash flow invece prevede una sottovalutazione all'incirca di un 20% Che potrebbe essere interessante Infatti genera ogni anno una quantità di free cash flow elevatissima Pensate che nell'ultimo anno ha generato praticamente 4 miliardi di free cash flow Che è molto molto elevato Per quanto riguarda le stime sui multipli Prevede una crystal in circa di un 16% all'anno per i prossimi 3 anni Che portano l'utile prezione attuale da 5,59 a 8,90 tra 3 anni E stimando un pie di 19 che per la crystal che abbiamo è più che ragionevole E considerando anche un dividendo del 2% all'anno Abbiamo un possibile guadagno da qua a 3 anni all'incirca di un 50% A questo punto mi chiederete Ci investi? E io vi dico no Il discounted cash flow prevede una sottovalutazione E per quanto riguarda il mio modello sui multipli Prevede una sottovalutazione ma non mi convince sotto patrimoniale E' per questo che decido molto probabilmente di non investirci Magari la monitoro perché magari se il prezzo scende sotto una determinata soia Potrei pensare di investirci Però a questi prezzi qua non mi sento a mio agio di investire Per quanto riguarda Microsoft ho fatto un video in cui ieri ne parlavo Quindi vi lascerei al video di ieri Detto questo spero che il video vi sia piaciuto Lasciate un bel like, un commento Ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti